A vederla così sembra una cartolina, il portocanale, le imbarcazioni, il faro, le anatidi. Peccato che ruotando poco la testa ci si imbatte ancora nella fattiscente struttura dell'ex asilo Manfrini di via Nazario Sauro. L'edificio che mostra i segni del degrado è stato impalcato prima del 2012 per la pericolosità della caduta di calcinacci e intonaci. Passati ormai diversi anni anche il ponteggio formato da dei tubi in metallo e travi in legno hanno iniziato a marcire lentamente tra la salsedine e le condizioni meteo. Non ultimo alcuni giorni fa una tavola in legno è caduta sopra un'auto in sosta che per fortuna non ha recato danni a persone o cose. A segnalare la pericolosità un giovane residente. Io ho notato circa un paio di giorni fa il crollo letteralmente, il crollo di alcune travi, tutte quante, tutte marce e sono cadute sia sul cofono che sul tetto di un camioncino parcheggiato a lato della strada. E per fortuna che c'era un camioncino perché se non ci fosse stato quello, fosse passato un bambino, un anziano, una persona comunque in difficoltà che abita in questa zona, gli sarebbe potuto cadere in testa e avrebbe potuto farsi veramente molto male. La mia preoccupazione è questa che noi da residenti, almeno io parlo per me, da residenti sono molto preoccupato per la situazione attuale e è una situazione veramente insostenibile questa, a parer mio. Ho deciso di denunciare questa cosa pubblicamente, non ho ancora fatto alcuna denuncia scritta né ai carabinieri né al comune perché so che alla fin fine andrebbe a cadere nel vuoto. Inizialmente al posto di quella struttura dovevano nascere delle case popolari, progetto che non è stato approvato dal demanio. Nel frattempo, visti i tempi ancora lunghi, i residenti chiedono interventi da chi di competenza, anche perché nella parte del camminamento, lato sottopasso, ci sono altre travi pericolanti e prossime alla caduta. Noi chiediamo, almeno io chiedo, questa struttura venga o comunque sistemata, almeno l'impalcatura venga messa in sicurezza in maniera tale da non far sì che si possano creare futuri problemi, insomma così. Non voglio un giorno ritrovarmi con un bambino che si è fatto male, che si è trovato una trava in testa o un anziano, ripeto, una persona disabile, perché è veramente scandalosa una situazione così e non è giusto neanche per noi. Io ripeto, io sono qui da un anno e mezzo, ma ci sono persone che abiteranno da molto più tempo di me qui, da diversi anni e loro sono veramente molto stanche di questo scempio, perché chiamiamolo così, è uno scempio.